Si spegneranno quest'estate i motori dei bus in 83.645 km di strada in provincia. Partirà infatti un test sperimentale che consentirà un risparmio di circa 2 euro per ogni chilometro temporaneamente tolto dal servizio. Dunque, facendo un rapido calcolo, consentirà in massimo 84 giorni di ottenere 167.290 euro i quali saranno reinvestiti nel trasporto pubblico locale per cercare di alleggerire le corse più trafficate come quelle degli studenti ed evitare disagi soprattutto in autunno. San Michele di Morfasso, Pianello e Cremona, le linee dove saranno risparmiate più chilometri, meno colpita la Valtrebbia, zona maggiore vocazione turistica. La tabella delle ottimizzazioni, realizzata da Tempi Agenzia e pubblicata sull'albo pretorio della provincia, nasce dall'esigenza di razionalizzare il più possibile il servizio di trasporto pubblico locale. Sarà oggetto di confronto nei prossimi giorni con i sindaci.